cari amici di mille un'avventura continuiamo con i videogiochi degli iscritti siamo già arrivati al quinto episodio perché mi arrivano effettivamente un certo numero di giochi da provare e ogni tanto ci piace mostrarveli ovviamente questa volta inizieremo sempre da salvo che è sempre molto assiduo a proporci le sue creazioni ma abbiamo anche due nuove entries cioè randy wolf mi pare che si chiami e andrea m da non confondere con andrea l quindi andremo a vedere tre tipi di giochi con construct 3 quelli di salvo un multi user dungeon quello di randy wolf e poi alcuni giochi che ora non ricordo come siano realizzati ma sicuramente andrea m qui sotto nei commenti ci spiegherà come li ha realizzati ma andiamo subito a vedere find world di su sui test builds di gamepix quindi non è ancora stato pubblicato è di salvo lo riconoscerete se avete visto le puntate precedenti è una un cambiamento della veste grafica del gioco che permette di comporre parole ora non mi sembra che abbia ancora implementato qualche meccanismo di penalizzazione in ogni caso so che la parola è sarto ed ecco che l'ho già composta e poi ci sono altre parole da trovare e quindi questo invece è già su indie expo c'è un audio scusate mi avevo avvertito ecco mi aveva avvertito che l'audio era altissimo e io l'ho già abbassato in cuffia e spero che non lo sentiate più di tanto perché non è essenziale ecco questo invece è un gioco completo su indie expo completo nel senso che le sue caratteristiche essenziali sono presenti ovviamente c'è sempre spazio per fare delle modifiche e vedete che la grafica è molto curata infatti è stata realizzata appositamente per questo gioco e vedete lo score 5 punti miglior score 20 sono stato un po più bravo in qualche prova di qualche tempo fa intanto abbasso ancora un po l'audio perché temo che dia fastidio e menu ecco adesso devo capire come si salta non mi ricordo già più assi col mouse bene il nostro personaggio comincia a percorrere la sua strada è arrivato un primo ostacolo sulla sinistra ne è arrivato un altro a destra e in pratica bisogna saltare a destra e a sinistra con i riflessi pronti perché se non avete i riflessi pronti qua il gioco finisce molto rapidamente carina la grafica quindi chi ha prodotto anche la grafica è sicuramente dotato e poi l'implementazione con construct 3 di salvo merita e poi vi metterò qui sotto il link così potrete eventualmente contattare salvo se avete delle domande su come sfruttare construct 3 in ogni caso vedete un concept molto semplice che può ovviamente ecco adesso ho sbagliato che mi sono distratto comunque punteggio 54 che è anche il mio miglior punteggio e quindi se volete contattare salvo per sapere qualcosa o scrivete commenti qui sotto su come realizzare su come pubblicare visto che lui assolutamente non ha problemi da questo punto di vista ecco potete scrivere nei commenti oppure sul suo gioco andare a cercare se c'è qualche contatto invece dicevamo parliamo qui di Randy Wolf almeno credo perché mi sono perso il nome chiudo un attimo Randy Wolf si me l'ero scritto me l'ero appuntato per ricordarmelo e poi mi era sparito l'appunto c'è la notizia su mod.it che evidentemente è un sito che parla di multi user dungeon che io ovviamente non conoscevo pur avendo parlato per tanti anni sul canale di multi user dungeon quindi una cosa che mi mancava questo articolo del 7 febbraio dell'anno scorso 2021 presenta un nuovo progetto di cui poi vi metterò il link qui c'è tutta una spiegazione del progetto però il progetto è questo vedete anche una presentazione abbastanza inquietante e vi metto appunto il link che spiega cos'è run with walls ricorderà da ricorderete balla coi lupi qui corri coi lupi r w w è un multi user dungeon rpg open world però testuale appunto come i multi user dungeon e il vantaggio è che offre libertà di azione e interazione che nessun altro gioco online può offrire in effetti tutti i giochi testuali scatenando la fantasia dei giocatori hanno qualcosa in più rispetto magari a dei giochi che invece hanno una grafica spettacolare e sul sito troverete la filosofia di gioco il fascino vintage di questo gioco e varie presentazioni come implementato e se vorrete giocare basta che scriviate una o volete fare da beta testing potete scrivere una mail o visitare il gruppo vistita cioè c'è un refuso qui visita il nostro gruppo facebook c'è scritto qua e quindi potete contattare chi lo sta sviluppando per far parte di chi fa il test e quindi andiamo a vedere questo multi user dungeon e subito dopo non ho ancora provato quindi farò proprio i primi passi eventualmente in futuro ci giocherò un po di più e poi andremo a vedere i giochi di andrea m punto cioè al switch.io nuke ita comunque vediamo ecco vedete non c'è bisogno come nei multi user dungeon soliti di avere un diciamo un interprete telnet cioè un programmino che vi permette di connettervi al server perché qui c'è un interfaccia su html c'è il sito insomma direttamente qui sotto penso qui sotto ci si può connettere c'è la linea di input e potete scrivere create visto che vogliamo creare un nuovo personaggio nuovo nome personaggio hard lion vediamo se lo accetta e poi la password scusate un attimo perché la password tanto cominciate a vedere qualche gioco di nuke ita ecco la password non ve la faccio vedere quindi crea hard lion avevo pure sbagliato aiuto mi registro un attimo solo è arrivo hard lion e ci siamo e ora la password ecco fatto dovrei essere a eccolo qui inserisci il codice di invito ecco qua e non so se me l'aveva mandato probabilmente sì ma me lo sono perso perché non mi ricordavo di dover immettere il codice di invito in pratica il codice di invito è quello che vi manderebbero per email allora diciamo che round with walls lo rivedremo in qualche altro i videogiochi degli iscritti magari il numero 6 se randy wolf vede questa cosa e scopre che volevo giocare perché l'email non l'ho mandata e se mi aveva mandato un codice di invito me lo sono perso quindi pazienza però esiste questo nuovo mood tutto in italiano e appunto mi ero accorto che premendo il codice non è valido ovviamente ecco premendo i tasti freccia vedete ovest est poi c'è help poteva mettere aiuto è un po in italiano un po in inglese vedo qua la situazione comunque c'è la spiegazione in inglese comunque lo vedremo ecco esiste troverete il link qui sotto potete magari scrivere per provare se vi interessano i multi user dungeon invece dicevamo a questo punto andiamo a vedere i giochi di nuke ita anche qui vi metterò il link ingrandiamo un po per vedere il gioco ecco allora il primo gioco che vediamo come vedete realizzato con unity non me lo ricordavo adesso me lo sono ricordato vedendo il logo è azardo materials possiamo fare un nuovo gioco e vedete che c'è questo simpatico personaggio che può spostarsi sotto queste questi scarichi di materiali pericolosi mi sono dimenticato che dovevo scaricare il materiale pericoloso quindi vedete siamo al livello 1 adesso di materiale pericoloso nel nostro contenitore ed ecco che mi sono dimenticato di scaricare non so bene quanto mi resti da vivere provo con scarica ecco scarica e non è mica facile più 1 live quindi ho recuperato una vita per fortuna e via così ecco un classico ecco finito è un classico gioco di quelli che si usavano appunto sul commodore 64 ce n'erano tantissimi negli anni 80 e anche adesso hanno un loro perché vedete c'è come giocare ci sono le spiegazioni ci sono i ringraziamenti la musica che è stata utilizzata e così via quindi troverete il link anche a questo gioco interessante anche in questo caso potete contattare l'autore seguirlo switch punto io e fargli delle domande se vi interessa sapere come è stato realizzato la stessa versione oltre a itch.io si trova su gamejolt in un video di qualche tempo fa avevo spiegato come pubblicare su gamejolt anche qui si può giocare vedete c'è il pulsantino apposito play game sarà chiaramente uguale devo ingrandire sempre anzi facciamo schermo intero ed è il gioco di prima ma ecco a schermo intero forse rende ancora di più vabbè ci sono io davanti comunque l'abbiamo già visto vediamo gli altri giochi faccio solo uno scarico ecco sono già diventato bravo bene questo è azzardus materials di nuke ita andiamo a vedere quest'altro sempre su gamejolt è ttr001 qualcosa del genere si può scaricare la colonna sonora a quanto pare ma si può anche giocare si può anche scaricare di tutti questi mi pare ci sia anche la versione per cellulare andiamo a vedere anche qui meglio mettere schermo intero questo non mi ricordo se l'ho provato ma c'è il robottino usa i tasti freccia l'uscita è di lì si può saltare non so allora premi z ah non l'ho proprio giocato questo è un teleport device che non so cosa serva io lo metto qui e questo cosa cosa si deve fare mi sa che anche questo gioco ce lo dovremo studiare aiuto a dice di ax forse dal tastino o ecco quindi vedete molto elaborato come platform bisogna premere dei pulsanti ci sono questi teletrasporti che non so bene come funzionino e qui cosa succede vorrei uscire dunque se io premo succede questo e succede quest'altro allora faccio così e quindi probabilmente ci vuole il teletrasporto mi sono teletrasportato ho capito allora dobbiamo mettere il teletrasporto qui poi vado a premere qui perché altrimenti non riesco a passare l'uscita premo x a questo punto mi teletrasporto qua e posso uscire ho capito non so se avete capito anche voi poi c'è questa luce sopra di me niente si preme si passa forse devo andare a mettere il teletrasporto qui poi torno qua a premere poi premo z mi trovo qua e stavolta mi sa che ho sbagliato perché non so come uscire mi sono intrappolato da solo apre premier per ricominciare e probabilmente mi sono bloccato allora proviamo apriamo qui vado 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 proviamo a mettere il teletrasporto qua torno indietro premo x e no vabbè ve lo studiate voi poi mi dite come si fa questo livello perché non riesco ad andare verso l'uscita bisogna studiarsela bene chissà se si può salire sopra ma vedremo comunque molto interessante come platform e poi c'era l'ultimo che mi aveva segnalato di tutti questi ripeto vi metto i link ecco questo link già ce lo siamo giocato e vediamo questo che non ho provato per niente forse solo un test questo qui probabilmente come giocare e anche di questo vi metto il link e ve lo studiate c'è qualcun un dado da lanciare cose di questo genere non sono stato molto esplicativo questa volta ma non l'avevo davvero provato ecco ultima cosa se volete seguire gli sviluppi i progetti di nuke ita e qui c'è il suo blog e troverete vedete andrea massa punto ux site punto com quindi andrea m è andrea massa e lo trovate con tutti i suoi progetti e chissà se questo è lui chi lo sa quindi progetti per android e progetti per web abbiamo quindi visto alcuni giochi di andrea massa abbiamo tentato di giocare a run with walls di randy wolf e purtroppo non avevo il codice per poter avanzare e abbiamo visto monster jumper di salvo quindi addirittura tre autori piano piano stanno aumentando e chissà che non ci capiti di presentare anche il vostro gioco voi che state sentendo che avete seguito questo video e se avete creato qualche giochetto anche molto semplice mandatelo e vediamo di presentarlo al mondo e magari qualcuno vi contatterà per sapere come avete fatto intanto come vedete io sto battendo tutti i record almeno fino a questo momento no non l'ho battuto il mio record bene grazie a tutti per l'attenzione mandate i vostri giochi commentate qui sotto i giochi che avete visto date consigli anche ai nostri autori per migliorarli se pensate di avere qualche buon suggerimento a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti ciao a tutti